Originario di Ottaviano, 62 anni, tre figli, una laurea in giurisprudenza e una carriera avviata nel 1987. Il nuovo prefetto di Pescara è Francesco Provolo e il suo mandato ha preso avvio l'11 gennaio. Conosce bene l'Abruzzo, è stato infatti vice prefetto, vicario all'Aquila. Conosce anche Pescara perché ha già molto chiare le sue priorità, la sicurezza negli edifici, il confronto con sindacati e cittadini e la questione della sicurezza sul territorio. Le statistiche non aiutano alla percezione sulla sicurezza. Si tratta di capire che cosa significa quel dato e affrontare poi la realtà precisa del momento. E' vero, quest'ora e stamattina, la seconda volta che ho l'incontro da quando sono venuto qui, nel giro di due giorni, dai miei dati so che i furti e tutti i reati sono diminuiti. Una particolare attenzione il nuovo prefetto alla punta sulla sicurezza dei lavoratori. Il motivo si ritrova nella cronaca, quando infatti ricopriva il ruolo di vice prefetto vicario presso la prefettura di Caserta, cinque uomini persero la vita in fabbrica, un fatto che lui stesso ricorda con dolore. Sicurezza sul lavoro, sì, è una cosa che seguirò con molta attenzione anche in provincia di Pescara, perché ritengo che siano un argomento molto importante da affrontare e capire se anche in provincia di Pescara c'è bisogno di un'attività molto più precisa e puntuale. Sentirò i sindacati su questo nei prossimi giorni. Infine la questione della sicurezza percepita. Tra i primissimi incontri istituzionali c'è stato anche quello con il questore di Pescara, Paolo Passamonti. Affronteremo questo problema, nei minimi particolari, nel prossimo comitato per l'ordine di sicurezza pubblica vedremo un attimino che cosa è stato fatto, positivo perché i numeri sono scesi, e cosa possiamo fare di più per dare anche una maggiore sicurezza di percezione della sicurezza alla collettività. La cosa che l'ha colpita di più della città di Pescara qual è stata? La sua bellezza.